1419-2019, sono passati 600 anni dalla nascita dell'Istituto degli Innocenti, una delle più antiche istituzioni pubbliche italiane dedicate alla tutela dell'infanzia. L'edificio, il cui ingresso è sotto un loggiato decorato dalle immagini in terracotta di neonati in fasce, opera dei Della Robbia, è stato il primo di architettura rinascimentale e sorge nel pieno centro storico fiorentino in Piazza Santissima Annunziata. Il progetto fu firmato da Filippo Brunelleschi, si chiamava Spedale degli Innocenti. Nacque per accogliere e prendersi cura dei bambini abbandonati. Secondo valori di una straordinaria contemporaneità, i piccoli abbandonati venivano curati fin dai primi giorni di vita e poi mantenuti attraverso un'educazione scolastica e l'avviamento al lavoro. Fra il 600 e il 700 inizia ad accogliere le madri nubili da affiancare alle nutrici interne che erano addette a prestare le prime cure ai neonati, precorrendo così di secoli l'assistenza alle donne in difficoltà. Negli anni fu istituito anche un sussidio destinato a queste giovani donne per dare loro un aiuto concreto per poter vivere anche fuori dall'istituto. Il complesso di Piazza Santissima Annunziata evolve in continuazione. Nel 2016 è stato inaugurato il Museo degli Innocenti e segue i cambiamenti delle attività svolte in favore dei bambini e delle loro famiglie. Insomma, un modello universale di tutela dell'infanzia. Una curiosità. Il primo infante di cui si prese cura all'Istituto degli Innocenti nel 1444 fu una bambina, trovata alla base della finestra afferrata, tuttora visibile sotto alloggiato, luogo per lasciare i piccoli in fasce affinché venissero accolti dall'Istituto. Fu chiamata Agata Smeralda, in onore della Santa, celebrata il giorno in cui la piccola entrò nell'ospedale. Oggi accoglie due asili nido, una scuola materna, a tre case famiglie destinate ai bambini in affido familiare e madri in difficoltà, ma anche alcuni uffici di ricerca dell'UNICEF. Con la legge 451 del 1997, l'Istituto è divenuto centro nazionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, punto di riferimento nazionale ed europeo per la promozione della cura dei diritti dell'infanzia.